Buon pomeriggio da Sorrento, Fulvio Cascone per Sorrento Nocerina, primo turno di Coppa Italia. Quindi ecco partiti in questo istante. Procida, scambia con De Marco, c'è il cross di testa, gli ad arresta e c'è l'intervento di Pitarresi. Poi De Marco sbaglia, dà l'occasione agli ospiti, è il numero 21 che tira, si tratta di Gallo, a centroporta a Bolzone, Palmieri. Poi Simonetti, il destro di Palmieri, ancora una telefonata per Bolzone. E in questo istante l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. A destra si va a chiudere un imbuto, riesce a crossare, gli ad arresta, poi c'è il calcio di rigore. Gli ad arresta di prima intenzione la sua volée, quindi gli ad arresta contro Pitarresi. Parte ad arresta, il destro è rete. Il Sorrento è passato in vantaggio all'ottavo della ripresa, gli ad arresta su calcio di rigore. Attenzione, se ne va Talamo, Diop, Talamo è il sinistro, un passaggio in pratica a Bolzone. La battuta di testa, Talamo sfiora il pareggio. Menichino, poi c'è il numero 20, il suo tiro, Palo e allontana Manzi. C'è stata un'ottima giocata da parte del numero 20 Mancino. Recupera la Monica, la Monica in aria, la Monica rete! E si chiude qui, credo, la qualificazione. E in questo istante l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Il Sorrento batte la Nocerina 2-0, passa al turno successivo di Coppa Italia.